E ciao amici, oggi vi porto al lago di Suviana. Siamo in pochi, siamo buoni e vi farò anche qualche video con il drone. Ciao, a dopo. Qui abbiamo anche il press che è carico a palla. Buongiorno a tutti. Buon viaggio. Buon viaggio. Ciao, a tutti. Ciao, a tutti. 20-25 km. Ok, noi intanto uno spuntino, abbiamo fatto un fermino così per non arrivare con troppa fame all'ora di pranzo, se no dopo gli mangiamo tutto il lago e oltre. E tutti i pesci che ci sono, che vengono a galla. Siamo pochi, ma siamo buoni e soprattutto gli diamo il gas, ragazzi. Anche le tagliatelle dello zio. Allora, il lago di Suviana. Queste sono le tagliatelle dello zio. Queste invece sono tagliatelle a cinghiali, come me. Cignalo! Filettino di manzo con crocchette, verdure grigliate e filettino di manzo con il lardo di colonnato. Sì, ovviamente. Buona pensione. Grazie. E lui è tu in pensione, capito? Lui ci si andrà con gli uffi. Ci vengono, ho capito, l'asli direttamente da Marte. Allora, a mangiare abbiamo mangiato. Adesso stiamo facendo la pausa cocomero, come vedete. Qui ha questo barrettino. E dopo andremo a vedere il castello. Adesso vi lascio le immagini del drone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, adesso facciamo una pausa, poi direzione verso il castello di Rocca Mattei, ma non entreremo, perché se lo facciamo troppo tardi, ma alzeremo il drone e facciamo delle riprese, e poi, una volta fatte le riprese, riprenderemo la strada di casa. Allora, dove siamo presto adesso? Adesso noi siamo al castello di Rocchetta Mattei. E' un castello, per come mi hanno detto, ma non vorrei poi dire tante castronerie, che il proprietario ha portato qui la sua... cioè, più architetture di quando lui ha girato un po' il mondo e si è riportato dietro lo stile di diverse architetture dal mondo e ha ricostruito il castello che ti fa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra girata finisce qui, ci vediamo alla prossima volta, alla prossima girata insieme alle frecce. Ciao dalle frecce!